Ciao, ragazzi sono ragazzi, ragazze, io sono Cristian, mi piacevo di una bella gasta, bella bionda, di Sabati della strada, è bellissima, secondo me. Io sono simpatico, è bravissimo, è bellissima, bionda, questa è molto bella, comunque va bene, va bene per me, per me va bene, vabbè, mi sono ballato sui spondi del mio telefono, quindi, eh, aspetta, aspetta, io voglio, ecco qua, bella, 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 soglia, questo soglia è cosa vedete che ha morto, è bella, che è sempre innamorata di me, sempre innamorata di me, comunque va bene, no va bene, forse va pareggio, circa 3-4 gradi, quindi va bene, va bene, comunque va bene, adesso sono alle 6, perché io devo uscire al bar, al bar, va bene, va bene, io sono un uomo forte, e sono intelligente, sono intelligente, per capire meglio, comunque va bene, va benissimo, ragazzi, ti saluto a tutti, buone feste a tutti, ciao!